presentiamo un nuovo modello di aeroplano a quattro cilindri con la velocità di crociera di 95 miglia orari costruito appositamente per l'ispettorato del commercio aereo la sua più evidente caratteristica è di avere il motore di dietro con vantaggio della visibilità del pilota ma le sue principali qualità consistono nella facilità di manovra e dell'impossibilità di cadere in vite